A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico è già polemica sul nuovo piano assunzioni 2014-2017, annunciato dal ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza e sulle immissioni in ruolo del personale scolastico. Secondo le direttive del MIUR, con riferimento ai collaboratori scolastici e al personale ATA, a Messina saranno in tutto 47 i bidelli che otterranno un contratto a tempo indeterminato, ponendo fine così ad una vita di precariato. Anche per i docenti si avvicinano i tempi dell'assunzione a tempo indeterminato. Saranno infatti 85 quelli chiamati ad entrare di ruolo, ma solo 8 dei docenti dell'infanzia su 17 posti disponibili, solo 14 su 31 disponibili nella primaria, 16 quelli nella scuola media, 30 nelle scuole superiori e 15 docenti di sostegno complessivamente per tutti gli ordini di scuola. Una piccola cosa per la provincia di Messina, ha commentato Laura Fleres, segretaria provinciale della CISL Scuola, il nostro territorio avrebbe bisogno di numeri ben diversi, sia per le reali disponibilità di posti, di gran lunga superiore ai numeri risicati trasmessi dal MIUR, sia per il fabbisogno delle scuole che va anch'esso ben oltre i suddetti numeri. Secondo la normativa vigente, le emissioni sono suddivise in due tronconi, per metà si attingerà alle graduatorie permanenti e per metà alle graduatorie dei concorsi. Se per le graduatorie permanenti è tutto a posto, nel senso che sono state pubblicate per tempo, spiega la segretaria provinciale della CISL Scuola, non è così per quelle dei concorsi, in quanto il concorsone, voluto dal ministro Profumo, non si è ancora concluso per alcuni ordini di scuola e sono solo poche le graduatorie pubblicate, fra l'altro ancora provvisorie.